Una frana, uno smottamento del terreno ha provocato il crollo del muro di cinta di un'abitazione privata a Guerceno. I calcinacci sono piombati nella sala menza della scuola materna adiacente, ferendo la cuoca, una donna di 32 anni, trasportata all'ospedale di Alatri e lì refertata con un codice giallo. Altre due, le signore rimaste coinvolte, hanno riportato qualche lieve scoriazione. Il crollo ha provocato la rottura della tubatura del gas, attimi di tensione, mentre le insegnanti sgommeravano la materna Santissima Annunziata, accompagnando i piccoli alunni, circa una trentina, nell'altro plesso scolastico del paese, a poche centinaia di metri di distanza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco di Frosinone, che hanno messo in sicurezza la zona, transennandola e bloccando immediatamente la fuoriuscita di gas, con l'ausilio dei tecnici specializzati. La zona dove si è verificato lo smottamento già era stata in passato teatro di Frane, racconta il sindaco di Guarcino, Giuseppe Di Vico, e a breve sarebbero partiti i lavori di messa in sicurezza, per dare maggiore solidità ad una zona che non è nuova a questo tipo di episodi. I paletti di contenimento precedentemente piantati hanno tutito infatti in parte il crollo, ma i calcinacci sono comunque piombati nella sala menza, dove all'interno c'erano solo le addette alla cucina. Ben più grosse sarebbero state le conseguenze se lo smottamento fosse avvenuto qualche ora dopo. Alle 12 la sala infatti è occupata dagli alunni e dalle insegnanti per il pranzo. I rilevi e le operazioni di messa in sicurezza sono state seguite dai carabinieri della stazione di Guarcino agli ordini del capitano della compagnia di Alatre, Antonio Contente.